Buongiorno e benvenuti a questa nostra nuova video presentazione. Il camper che andremo a vedere oggi è il McLouis MC4 modello 865, un semi integrale con garage da 6 metri 99 di lunghezza con i letti gemelli e il letto basculante installato sopra la dinetta. Un veicolo che si caratterizza per i 5 posti omologati e una dotazione molto completa. Partiamo con la panoramica della parte esterna come facciamo in ogni nostra visita e partendo dalla parte cabina troviamo il classico Ducato con paraurti in tinta. La meccanica può essere scelta in varie configurazioni, questo che vediamo è un 140 cavalli con cerchio in lega ma abbiamo a disposizione molte altre configurazioni disponibili pronta consegna. La serie 8 di McLouis si caratterizza per alcune finiture a differenza delle altre gambe. La prima che notiamo all'esterno è questo gavoncino apribile sulla bandella di sinistra, un gavone contenuta stagna perché è dotato di guarnizione che ora vi farò vedere e un pratico vano di stivaggio per gli oggetti più piccoli da poter riporre quali possono essere i cunei di livellamento, il cavo della corrente o altre cose che in garage magari viaggiano un po' troppo. Poi vediamo l'imbarco dell'acqua, la cassettina del WC, il bagno è dotato di finestra, l'attacco esterno della 220V, il cammino della caldaia in questo caso combi diesel, il primo portellone gavone, il veicolo ha i due portelloni simmetrici destra e sinistra. Passando sulla parte posteriore troviamo il paraurti dotato di fanaleria a LED che è un'altra differenza rispetto alla serie 3 per esempio o alla serie 2 e terzo stop con predisposizione per la telecamera. Il veicolo è già dotato di doppio DIN di Pioneer montato di serie, poi quando entriamo andremo a vederlo. Vi apro ora il garage, due gavoni simmetrici, vediamo le foderine che non sono ancora state installate sui sedili cabina, il vano bombole per due bombole è qui all'interno ed è molto capiente, volendo si possono mettere anche bombole da 15 kg perché come misura ci stanno è molto alto e l'altro sportello che vediamo di là serve per la manutenzione della caldaia, il vano è ovviamente riscaldato e illuminato. Procedendo sul lato destro troviamo le griglie di aerazione frigo, la finestra cucina, luce esterna e entriamo a vedere la parte interna. La porta è dotata di doppia chiusura, quindi chiusura alta, chiusura bassa, finestra, patumiera, porta in zanzariera a pacchetto e chiusura centralizzata. Salendo la prima cosa che salta all'occhio è la gamba del tavolo, quindi abbiamo questa gamba in legno curvata con illuminazione a led, il piano del tavolo ha il bordo in legno e è traslabile nelle due direzioni, destra e sinistra, avanti e indietro con molta semplicità. Qui vediamo sempre i sedili girati in configurazione sosta e come vi dicevo prima la radio doppio din che in questo caso nasce di serie con comandi al volante. La parte alta sopra cabina è dotata di oblò panoramico apribile e con zanzariera oscurante e di due capienti vani di stivaggio laterali simmetrici sia a destra che a sinistra e arriva anche la bocchettina del riscaldamento per riscaldare questa zona e per evitare che si formi condensa sull'obolo grande qui davanti. I pensili sono bicolore, abbiamo una plafoniera molto ampia sul sottobasculante, il divanetto laterale che sarebbe il quinto posto omologato per il viaggio. La cucina è una cucina lineare con piano di appoggio laterale, quindi qui sul fianco abbiamo il piano che si solleva per avere un piano di appoggio aggiuntivo rispetto a questo che troviamo fra fornello e lavello. La parte sotto cucina è completamente disponibile, qui abbiamo un cestello e il resto mi rimane tutto libero e anche il pensile sopra cucina è disponibile e è dotato di capa aspirante. Sul pavimento un'altra caratteristica della serie 8 che è questa botolina, quindi questa è un altro vano di stivaggio dove io posso andare a riporre qualche altro oggetto. Il bagno è molto comodo, ha la finestra, ha uno specchio di fronte al lavello, un capiente vano sotto lavandino e un pensile a soffitto disponibile e il box doccia molto comodo, togliendo questa pedanina in legno abbiamo le due porte rigide che vanno a chiudermi il box. Per le varie foto dettagliate della composizione del bagno e anche delle varie configurazioni dei letti posteriori vi rimando al nostro sito www.campersoimex.it dove potete vedere appunto la doccia chiusa, il letto posteriore trasformato in matrimoniale e tutti i vari vani disponibili. A completamento della cucina troviamo il frigorifero a colonna da 140 litri con cassettone per le bottiglie nella parte inferiore e freezer sulla parte alta e la zona posteriore dove troviamo i due letti singoli sul lato passeggero con ampia finestra, i tre pensili capienti in coda, lato guidatore anche lui con ampia finestra, sotto ai letti abbiamo dei capienti vani di stivaggio, sul lato guidatore questo vano a mo' di cassapanca, sul lato passeggero invece abbiamo l'armadio per gli appesi che si accede o alzando la rete come vedete o aprendo lo sportello sul frontale, chiaramente anche sull'altro lato c'è lo sportello frontale per poter andare ad accedere al vano senza dover alzare il letto ogni volta. Un ulteriore vano di stivaggio lo abbiamo qui in centro sul secondo gradone con chiusura rallentata, chiaramente unendo i due letti con questo cuscino che vedete qui sopra è relativa scaletta, questo spazio qui centrale viene occupato chiaramente e trasformiamo il lettone in un matrimoniale gigante. Abbiamo anche un oblò a tetto con quattro faretti per ulteriore aerazione e illuminazione e il letto basculante qui sulla zona davanti a movimento elettrico, sono altri due posti letto sempre disponibili, il letto molto comodo con rete anticaduta, scaletta per l'accesso e rete ad oghe sotto letto. Per qualsiasi informazione vi invito a contattarci attraverso il nostro sito internet, i canali social, le mail, il telefono. Per tutte le foto dettagliate, gavone, wc, letti posteriori, come già detto www.campersonimex.it e trovate la scheda con tutte le varie foto nei vari dettagli e rimaniamo a disposizione per qualsiasi vostra ulteriore informazione e come sempre vi aspetto al prossimo video. Arrivederci e grazie.